Siamo quasi in addirittura d'arrivo e allora fatemi ringraziare quanti nella famiglia di piccole stelle cantano, si adoperano affinché lo spettacolo riesca al meglio. Quindi al mixer audio luci grazie a Marco Bottoni, Giuseppe Di Bono ed Emanuele Liberti. Per le riprese televisive l'intero staffa Mario Sibilia, Matteo Ghidoni, Kevin Trotta, Martina Trotta, Michael Bagnato, Martina Magnana, Gennaro Leuci e poi ancora Cristian Florin Benzolla dell'Associazione Europea Ollus. Grazie a Anna Maria Crisci, insegnante di canto e pianista sempre dietro le quinte ad aiutare e supportare i ragazzi. A Franco Ballina, responsabile della provincia di Frosinone e a Costanza Ruggero, a loro un grande applauso. Lei si chiama Barbara Pacetta. Ciao Barbara. Ciao. Anni? 15. Arrivi da? Latina. Frase? I bambini sono divertenti perché sanno divertirsi con poco. Ma bene però, eh? Barbara Pacetta canta Quello che le donne non dicono. Applauso? Oh! Buongiorno! Ci fanno compagnia, certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, sentiamo vai. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà, cambia il vento ma noi no. E se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Sì, con le nostre notti bianche ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via, nelle giornate senza fine, silenzi che fanno in unità. E lasciano una scia di frasi da bambine che volano e che mi ascolterà. E dalle macchine per noi, i complimenti dei ple poi, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no. E se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare. Tanto ci potrai trovare qui. Tanto ci potrai trovare qui. Sì, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare. Tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Grazie a te Barbara e con Barbara Pacetta abbiamo chiuso la Kermess di questa sera.